Il mediatore di strada è un agente, chiamiamolo di sviluppo, entra in contatto con le persone, ricepisce le loro richieste, cerca anche di fare con loro delle cose. Così si fa un accompagnamento all'integrazione nella società ospitante. Questo è il primo pezzo, però manca da fare, quindi ci sono delle cose che vanno fatte quando noi abbiamo incontrato delle criticità. Ad esempio manca il lavoro con i cittadini autoctoni, quindi il buon vicinato, il negoziante italiano, il vicino di casa, che magari gli dà fastidio l'odore del cibo dei vicini immigrati. Su questo è un obiettivo futuro che vorremmo affrontare, ma all'inizio abbiamo iniziato in modo molto tranquillo, molto senza nessun obbligo all'inizio, per arrivare a toccare anche la comunità autoctona, perché quando si parla di mediazioni di comunità, inclusione sociale, si deve fare a doppio senso, non a senso unico. Girando per le strade, contattando le persone, ci siamo resi conto che le persone vengano smarrite in questo labirinto amministrativo, quindi come devo fare per fare il permesso di soggiorno, cosa devo fare per iscrivere i miei figli a scuola e come devo muovermi in questa città dove mi trovo. Questa cosa qui ci ha dato anche uno stimolo in più per poter capire come orientare le persone e dove mandarle. Durante la nostra attività per strada, abbiamo incontrato delle storie, delle storie variegate. Una delle tante storie significative è la storia di Abdul, un cittadino del Bangladesh che aveva un permesso di soggiorno che doveva rinnovarlo e non sapeva dove iniziare per poter ricongiungersi con la sua propria famiglia, in quanto viveva in un negozio in piena solitudine, buio, da solo, malenconico. Quando siamo entrati in contatto con lui, mi ricordava un po' il sorriso quando abbiamo iniziato a spiegare, ha cominciato ad avere speranza e da lì pian pianino l'abbiamo accompagnato fino a fare la sua domanda di riconosciuto familiare per chiamare la moglie e i figli. La storia di Rashid è un cittadino del Marocco, arrivato in Italia con un regolare permesso di soggiorno, solo che si è trovato in difficoltà in quanto è disoccupato. Ci chiedeva cosa deve fare, di aiutarlo rispetto alla ricerca del lavoro. Parlando con Rashid abbiamo scoperto che Rashid in Marocco aveva la sua attività di parrucchiere e aveva anche una qualifica professionale. Insieme a lui siamo andate ai vari servizi per far conoscere il suo titolo di studio e preparare tutta la documentazione. Allora da quel momento lì Rashid è rinato, non è più Rashid che prima durante il suo momento di disoccupazione andava a vendere al mercato un'attività precaria che non gli dà sicurezza, soddisfazione. Con il riconoscimento del titolo e il riconoscimento dell'esperienza pregressa Rashid è diventato una persona attiva nella società torinese e fa parte dei cittadini torinesi riconoscendo il proprio vessuto, il proprio erinato. Ecco, ecco. Grazie a tutti.